Ciao e benvenuti finalmente nella nostra recensione di Galaxy S10 cosa? No, no, questo è l'S8 Plus e allora perché parlarvi dell'S8 Plus nel 2018? C'è un motivo, sono andato a guardare su Amazon i prezzi attuali di S8 e di S9, l'S9 Plus attualmente si trova circa sui 500 euro ma poi mi sono incuriosito ancora di più e sono tornato indietro all'S8 perché le differenze tra l'S8 e l'S9 non erano state così tante e allora mi sono anche ricordato di avere un S8 Plus su cui avevo da poco anche installato la nuova UI, la Samsung UI basata su Android 9 Pie che ha aggiunto anche qualche interessante novità dal mio punto di vista su questo smartphone qui che adesso lo potete acquistare con 350-400 euro, cifre decisamente diverse dai 1000 pass che Samsung chiede oggi per l'S10 Plus e allora vale la pena forse risparmiare ma avere un dispositivo che secondo me oggi, due anni dopo, è ancora meglio rispetto a quando è stato lanciato due anni fa andiamo a scoprirlo all'interno di questa riprova ma soprattutto analisi delle novità della Samsung UI con Android Pie su Galaxy S8 Plus è chiaramente passato un po' di tempo dall'ultima volta in cui vi ho mostrato il Galaxy S8 Plus su questo canale e sono cambiate anche un po' di cose, è arrivato il primo aggiornamento ad Android Oreo che però non ha cambiato tantissimo le cose ma adesso è arrivata la Samsung UI basata su Android Pie e qui un po' di cose, un bel po' di cose sono cambiate la prima cosa che si nota dopo l'aggiornamento è che questo dispositivo è diventato ancora più reattivo rispetto al passato diciamo che con Android Oreo aveva perso un po' di fluidità, ora secondo me è tornato ai livelli di Nougat ma anche forse un pelino meglio devo dire, le animazioni sono molto più fluide e non mi ricordavo un'interfaccia Samsung così fluida nel caricare tutti gli elementi come questa nell'ultimo periodo potete anche notare che è cambiato un'altra cosa e direi finalmente perché sono scomparsi i tasti di navigazione in realtà di default i tasti di navigazione ci sono, li potete però andare a disattivare dalla sezione se non ero dedicata allo schermo qui, barra di navigazione potete scegliere sia di avere i tasti di navigazione di nuova generazione con il tasto multitasking che riprende poi la nuova forma del multitasking però ne parleremo dopo oppure andare ad utilizzare i gesti a schermo intero che sono simili a quelli che abbiamo visto da altri produttori ma secondo me sono un po' una via di mezzo tra i gesti di OnePlus e quelli di Xiaomi, di Huawei, di Apple per chiudere un'app come avete visto basta scorrere dal basso verso l'alto nella parte centrale del dispositivo ci sono queste tre tacchette che fondamentalmente sostituiscono i tre pulsanti quindi se vogliamo tornare indietro dobbiamo scorrere dal basso verso l'alto sulla sinistra mentre se vogliamo aprire il multitasking dobbiamo fare la stessa cosa ma da questa parte qua il nuovo multitasking a me piace davvero tanto, schede a scorrimento orizzontale un trend che viene e va nel mondo degli smartphone le app più recenti utilizzate e anche la ricerca nel dispositivo che è la stessa a cui possiamo accedere anche dalla schermata home qui se disattiviamo la tendina delle notifiche perché possiamo sia richiamare la tendina delle notifiche sia aprire la ricerca con uno swipe invece dal basso verso l'alto abbiamo sì la ricerca del dispositivo il drawer delle app e anche invece facendo così appunto abbiamo la tenda delle notifiche che vengono tutte aperte immediatamente chiaramente sono notifiche interattive a cui possiamo ad esempio qui su Slack rispondere chiaramente le app devono essere ottimizzate per farlo e poi invece se andiamo ad aprire tutti i toggle vedete questa è una scelta che non mi piace tanto la schermata dei toggle va a coprire tutto lo schermo, tutta l'interfaccia questo software è lo stesso alla fine che troviamo anche su S10 quindi sono modifiche comuni che Samsung ha fatto alla line up è stato anche aggiornato il widget del metro sono state cambiate un po' le icone ad esempio noto come diverse camera, calendario, messaggi in realtà un po' tutte le icone stock di Samsung sono state aggiornate e anche alcune app come il dialer qui, l'applicazione telefono ma anche l'applicazione messaggi ad esempio è stata aggiornata anch'essa e poi tante piccole modifiche qui e là come avete forse anche visto l'applicazione impostazioni è stata tantissimo semplificata guardate quanto è breve adesso lo scrolling all'interno dei vari menu quindi questa cosa l'ho apprezzata particolarmente perché l'interfaccia Samsung era molto complessa invece sono state rimosse tantissime opzioni e per il resto però le funzioni sono più o meno quelle che abbiamo già visto in passato c'è qualche novità ad esempio c'è sempre la zona assistenza del dispositivo con la schermata dedicata alla batteria che adesso a sensazione dura un pelino di più e mi sono provato a spiegare questa cosa con questa nuova opzione qua che non ricordo se ci fosse già in precedenza avendo aggiornato il mio S8 non posso tornare indietro e recuperare però magari fatemi sapere voi nei commenti se avete già quest'opzione di ottimizzazione della batteria a riposo quando non utilizzate lo smartphone che però secondo me va a risolvere uno dei problemi più gravi di S8 e di tutti gli smartphone Samsung cioè proprio il consumo in standby che è sempre stato molto molto pronunciato chiaramente come su Oreo scompaiono le interfacce così sulle app di Samsung ma arrivano i quick toggle direttamente di Android e poi un'altra cosa che ho scoperto interessante all'interno dell'app camera e anche questa qui credo non ci fosse c'era la modalità cibo su S8 c'era tutto praticamente tranne la funzione super slow mo che adesso arriva e questo in pratica è il super slow motion a 960 fps se non erro solo che qui poi non si trova riscontro quindi sembra proprio che questa funzione sia una novità perché il menu non è pensato per avere questa funzione non so se è un errore o altro però il bello è che questa funzione qui effettivamente ha un senso perché se l'attivo vedete vado a fare così la mia solita prova banale è proprio la funzione automatica di S9 il super slow motion che rilevava il movimento e in automatico poi vi creava il super slow motion vediamo qui dobbiamo consentire chiaramente ecco è già iniziato quindi ci metteremo una vita però dobbiamo spostarci più nella zona in cui effettivamente c'era un movimento vediamo così probabilmente in questa zona qui nella parte finale quindi proviamo a fare in questo modo sono abbastanza sicuro che questa funzione non ci fosse in precedenza più o meno avete capito il senso adesso non riesco a beccare bene il momento comunque questa funzione ripeto non penso ci fosse su S8 a livello di fabbrica ma è arrivata con questo aggiornamento della UI e di Android Pie perché appunto vi ricordo vi faccio anche vedere che se andiamo nelle informazioni sull'aggiornamento software vabbè chiaramente questo è stato eseguito è Android 9 lo vedete qui nell'elenco delle novità ci sono le patch di febbraio questo è il changelog dell'aggiornamento che però non dice granché onestamente dice soltanto che arriva la nuova One UI si può rispondere direttamente ai messaggi anteprime di immagini nelle notifiche nuova tastiera Samsung con le emoji Unicode 11 dici che però io non uso perché uso la tastiera stock diciamo o meglio uso Gboard ci sono anche nuove impostazioni di assistenza always on con nuovi stili di orologio nuove informazioni sul tempo di ricarica eccetera eccetera ah una cosa interessante è Bixby che c'è la promessa che arriverà in italiano ma per il momento in questa versione parla ancora totalmente inglese tra l'altro ha qualche difficoltà come sempre vedete è completamente in inglese mentre la schermata iniziale questa qui è stata già tradotta quindi fa un attimo ben sperare torniamo indietro con il multitasking al nostro changelog abbiamo un'altra cosa interessante per gli utenti DeX cioè adesso DeX funziona semplicemente con un adattatore anche su S8 quindi non serve più proprio la Samsung DeX il dispositivo fisico ma basta un qualsiasi adattatore e poi beh direi che abbiamo finito quindi queste sono le novità di Galaxy S8 e di Android 9 con la nuova UI di Samsung secondo me questo dispositivo oggi ha particolarmente senso perché appunto con 350-400 euro ah ecco un'altra novità che non vi ho fatto vedere che avevo già visto su S10 che secondo me è pensato soprattutto per il Galaxy Fold quindi la possibilità di accedere alla home anche in orizzontale vediamo se si capovolge anche così no è forse meglio quindi vi stavo dicendo secondo me questo dispositivo ha più senso oggi che in altri momenti l'unica cosa su cui c'è ancora un po' di lavoro da fare è l'autonomia però come vi dicevo è migliorata tanto la fotocamera va benone e beh ragazzi S8 a 350-400 euro secondo me può avere ancora davvero senso in ogni caso se volete acquistare un S8, un S8 Plus vi lascio i link in descrizione se invece poi volete andare sul top di gamma di quest'anno di Samsung beh inutile nascondersi S10 è un dispositivo più completo più prestante vi lascio anche lui in descrizione e vi prometto che molto molto presto arriverà la nostra recensione completa di tutta la famiglia S10 S10 Plus, S10 ed S10e sono dispositivi molto simili li vedremo tutti in un'unica recensione con relativo confronto ma per il momento è tutto